Si parte da una certezza, la maggioranza che quattro anni fa vinse le elezioni a Trani oggi non esiste più. Il sindaco Bottaro sta aprendo le porte della sua coalizione a pezzi dell'opposizione che avranno anche voce in capitolo nella formazione della nuova giunta dal momento che la precedente è stata improvvisamente azzerata. Parlano di deriva trasformista i rappresentanti del movimento Trani a Capo che questa mattina in conferenza stampa hanno tracciato un bilancio negativo delle operazioni politiche messe in piedi dal sindaco Bottaro per salvaguardare il suo ultimo anno di mandato e rafforzare la sua ricandidatura alle elezioni comunali del 2020. È una maggioranza di centro-destra-sinistra ormai. Il centro-sinistra così come è emerso dalle elezioni del 2015 non esiste più. Ormai è una coalizione multiforme. Bottaro ha perso dei pezzi ma ne ha presi altri e altri ne sta imbarcando in vista del 2020. Ormai non si comprende più che tipo di maggioranza o di coalizione supporti il sindaco attuale. Nell'ultimo consiglio comunale Bottaro e la sua maggioranza hanno approvato l'abbassamento della Tari e delle aliquote IRPEF. Per i rappresentanti di Trani a Capo si tratta di riduzioni che non incideranno sulla qualità di vita dei cittadini. La gente lo vedrà, a parte il fatto che non lo vedranno neanche adesso perché non riusciranno ad inserire questa riduzione negli acconti, quindi si vedrà a saldo, probabilmente nel 2020. Adesso non vedranno nulla i cittadini ma si renderanno conto che stiamo parlando davvero di pochi spiccioli, stiamo parlando di 10 euro, 15 euro, su una Tari che resta altissima perché ricordiamo che Trani è tra le città sicuramente in Puglia ma probabilmente anche in Italia che paga un servizio di raccolta in modo spropositato, solo per dirne una paghiamo quasi il doppio di biceglie e poi abbiamo un servizio di raccolta differenziata che è praticamente inesistente. Vanno avanti per tentoni, adesso stanno facendo questa nuova sperimentazione, facendo fare la raccolta differenziata ai locali, hanno fatto sparire però i bidoni per tutti, non solo per i locali e quindi c'è la gente che oggi non dovrebbe fare la raccolta differenziata e che non sa dove deve andare a gettare il proprio sacchetto. Trani a capo critica la scelta dell'amministrazione di demandare ai privati la gestione di importanti servizi destinati al pubblico. Dovevamo attendere un'amministrazione di centro-sinistra per vedere appunto la privatizzazione dei servizi, per vedere la cementificazione della città, per vedere la privatizzazione delle spiagge, ormai è tutto in mano al privato e non credo che questo sia una bella notizia.